Da secoli a Venezia funziona così. Chi ha avuto particolari meriti nella difesa della città e delle sue tradizioni viene accompagnato in gondola nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di San Michele. Un modo insieme intimo e solenne per rendere onore alla vita di persone come Ettore Pagan, presidente dell'associazione benefica Biribiri, che questo viaggio l'ha compiuto lo scorso ottobre con a poppa Vittorio Orio, leggenda vivente del Remo, protagonista di imprese storiche come la traversata in gondola del canale della Manica. Esistono poi regolamenti comunali, prodotto della burocrazia dell'ultima manciata di anni e solerti funzionari che non mancano di applicarli a prescindere da qualsiasi considerazione di buonsenso. E così per non aver avvisato il comune del trasporto a remi della Salma, l'anziano gondoliere si è visto recapitare dalla polizia locale una multa di 77 euro. La vicenda emersa solo in questi giorni ha provocato in città un'autentica rivolta. Questa legge non scritta, chiamiamola così, che i veneziani meritevoli vengano portati in gondola al cimitero nasce prima delle regole del comune e quindi vediamo questa multa come ridicola e non necessaria. A far arrabbiare i veneziani non è l'aspetto economico della multa, puntualmente pagata dal nuovo presidente dell'associazione, ma che un gesto spontaneo di rispetto e tributo sia stato interpretato come un comportamento da sanzionare. La legge di Creonte contro quella di Antigone, secondo molti un'offesa allo spirito della città. Stiamo parlando di Vittorio Orio, una persona che ha portato alto il nome della nostra città sul fiume Hudson a New York, sul Danubio, nel mare del nord. Quindi stiamo parlando di Beppi e Tony. Chissà, conclude Matteo Secchi della storica associazione di residenti venesia.com, se la polizia locale mostrerà la stessa efficienza nei prossimi giorni di carnevale, quando ce ne sarà veramente bisogno. In questa città che è proprio l'inno all'illegalità, e qua parlo di turisti, veneziani tutti, vogliamo vedere se saranno bravi altrettanto a multare tutte le situazioni di legalità. Voglio proprio vedere.